Ciao! Come sapete il 24, 25 e 26 febbraio ci sarà un residenziale a Perugia, in un posto che si chiama Pantarei, è già tutto un programma, sulla vocazione tenuto da noi due. E tanti ci chiedono di cosa parlerà. Siccome ci sono gli ultimi posti a disposizione, volevamo dire che cosa intendiamo noi per vocazione, quali sono gli obiettivi del corso. L'obiettivo non è trovare il lavoro della vostra vita. Ah no? No, perché la vocazione non è il lavoro. Ah no? No, la vocazione si può declinare nel lavoro e tu puoi fare un lavoro che risponda alla tua vocazione, ma la vocazione è qualcosa di molto più grande del lavoro, non si può ridurre al lavoro. Ma non è neanche lobby che mi piace fare? No, la vocazione è ciò a cui tu sei chiamato nella vita, e quindi sei chiamato costantemente. Ma ha a che fare con i sogni che avevo da bambino? E forse sì, perché forse da bambino sapevamo più chiaramente quale fosse la nostra vocazione. Ma è tardi? Può essere che è tardi. Non è mai troppo tardi. Ma è presto. È sempre il momento giusto. Che cos'è la vocazione per te? Per me la vocazione è rispondere alla chiamata. Ma è così? Beh, in senso greco, sì. Ma c'è davvero questo Daimon? Cioè, a un certo punto noi faremo... Beh, noi parleremo di Hillman, parleremo della teoria della ghianda, del codice dell'anima, del Daimon, però in realtà quello che ci interessa fare non è tanto la rilettura di Hillman, non è semplicemente questo, la rilettura di Hillman, no? No, la rilettura di Hillman della greciità, in certi modi di pensare i greci, non è sufficiente. Cercheremo di capire che cos'era anticamente questa vocazione, che cos'è quella cosa che sentiamo ma che non riusciamo a codificare, come se fossero delle frequenze radio... Ma sarà tutto a chiacchiere, cioè si parla e basta? No, no. Intanto ci sarà molta convivialità. Ah sì? Perché si starà tutti insieme, si mangerà tutti insieme, quindi l'idea è anche quella di fare incontrare i tronisti che si parlano anche nel gruppo Facebook. No, no, amicizie, relazioni. Quindi i tronisti che si parlano tra di loro ma che ancora non si conoscono di persona e tra cui potrebbero nascere delle cose interessanti. Ma in termini di vocazione, magari può essere una vocazione erotica nel senso greco del termine, però... Che cosa mi fai dire? Però la cosa importante è anche creare un momento in cui si sta insieme in cui possono venire fuori delle idee. Non è solo una cosa teorica, quindi ci sarà teoria, ci saranno degli studi che noi condivideremo. Ad una base strettamente filosofica in cui analizzeremo le varie vicissitudini del termine vocazione, ma anche semplicemente le varie storie di vocazione. E alcune fregature in cui tutti cadiamo, per esempio rispetto al lavoro. Farà seguito un corso piuttosto fisico e corporeo, quindi non venite per star seduti. Ecco, fondamentalmente questo è importante. Però considerate che anche noi non è che siamo degli atleti, quindi non è che sarà una cosa spiancante. Non sarà una cosa spiancante, nel senso che sarà un lavoro su più fronti, in cui cercheremo di capire insieme alle persone qual è la loro vocazione attraverso varie tecniche e vari metodi. Saremo in una cornice bellissima, magari mettiamo una foto. Non è proprio Perugia, è sulle rive del lago Trasimeno, in questo posto incantato, meraviglioso immerso nella natura, in bioedilizia. E quindi l'idea è quella di stare... Mangeremo tutte cose bio. L'idea è quella di stare... Io mi porti mi ustel da casa. No, schifo. L'idea è quella di stare un po' isolati dal mondo. Beh certo. Quindi di lasciare a casa tutte le preoccupazioni, di arrivare lì e di far finta di essere fuori dallo spirito del tempo. Perché la vocazione spesso non si riesce a manifestare perché tu sei troppo dentro lo spirito del tuo tempo. La vocazione è qualcosa che sta al di là del tempo, non si può ridurre a qualcosa da fare oggi. Non esiste la vocazione della segretaria o la vocazione del ragioniere. Cioè diciamo che è un lavoro per aspiranti eroi quello che stiamo cercando di fare. Cioè innanzitutto creiamo uno spazio in cui si possa uscire dalla comunità. Dalla comunità che poi non è una comunità e questo lo sappiamo. Però che si possa uscire dalla massa. Noi usciamo e vediamo che succede. Da lì poi cerchiamo di trovare questo tesoro. E a un certo punto ho trovato l'Elisir, la spada magica, quel caso che vi pare, rientriamo dentro e lo portiamo nel mondo. Perché la vocazione come la felicità non ha senso se non è condivisa. Quindi corso sulla vocazione anche detto come tu puoi salvare il mondo. Giusto, esatto. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao ciao.